Una buona serata dalla redazione di ETV, benvenuti a una nuova edizione del nostro TG, TGD del 15 agosto, dunque ancora buon ferragosto a tutti dalla nostra redazione. Iniziamo ricordandovi che ci potete seguire oltre che in televisione sul canale 12 anche in contemporanea in streaming sul nostro sito www.etvmarche.it e poi sulla nostra pagina facebook e sulla nostra app. Ma iniziamo subito ora con le notizie. Un ferragosto che è stato almeno sulle coste marchigiane da sold out, boom di presenze in particolare a Portonovo che dunque sorride ma già si pensa al futuro. Al centro dell'attenzione la questione ripascimento e sono in molti a chiedere una soluzione definitiva per la messa in sicurezza della costa. Il sindaco Silvetti annuncia a settembre un tavolo. Si discuterà anche dell'arretramento. Vediamo. Se Portonovo fa segnare un ferragosto da tutto esaurito non si placano però le polemiche su ripascimento e arretramento. Il ripascimento ha portato alla spiaggetta di Portonovo 2.200 metri cubi di materiale in più nel tratto compreso tra il ristorante Emilia e la spiaggia Libera, costo 150.000 euro. Un'operazione indispensabile per non perdere e non far perdere lavoro a ristoratori e titolari di stabilimenti balneari e per non lasciare inghiottire dal mare quella spiaggia tanto amata da anconetani e turisti. C'è però chi, come il presidente del parco del Conero Picciafuoco, è convinto della sua inutilità, chiedendo invece una soluzione condivisa che risolva la questione una volta per tutte. Soluzione che, spiega il sindaco di Ancona Silvetti, potrebbe arrivare attraverso l'arretramento. C'è un'iniziativa che riguarda ovviamente la messa in sicurezza della costa, che andava fatta e andava svolta. Dopodiché, per quanto mi riguarda, io sono sempre stato storicamente a favore dell'arretramento delle attività, che ritengo che sia una buona soluzione che consenta all'operatore di lavorare in sicurezza, di non chiaramente arreccare danni all'ambiente e di risolvere qualche problemino che riguarda proprio l'utilizzo del demagno pubblico, del demagno marittimo e del demagno ovviamente quello comunale. Insomma, una buona soluzione per Porto Nuovo che possa consentire di veramente sviluppare il turisto sostenibile. Quindi ci sarà la possibilità magari di sedersi attorno a un tavolo e discutere di questo arretramento? Lo faremo da settembre con gli operatori e con quelli che sono i soggetti preposti, lo faremo anche con la regione. Insomma, da questo punto di vista non c'è nessun preconcetto ideologico. Ed ora restiamo sulla costa, ma parliamo di cronaca e ci spostiamo in realtà a Monte Marciano. Poteva essere una tragedia, un uomo rischiava di annegare invece l'intervento dei soccorritori, ha evitato il peggio e gli ha probabilmente salvato la vita. Protagonista dell'episodio un coreano di 45 anni che è stato sopraggiunto da un malore in acqua mentre stava facendo il bagno a Marina di Monte Marciano di fronte alla spiaggia libera vicina allo stabilimento Haidi. L'uomo sembra colpito da un crampo, si è fatto prendere dal panico e ha iniziato a bere acqua andando giù. A salvarlo dall'annegamento il bagnino dello stabilimento Leonardo e il titolare del ristorante Haidi. Insieme il bagnino l'ha portato a riva e subito ha iniziato a rianimarlo mentre il ristoratore accorreva con la bombola d'ossigeno. Dunque il tempestivo intervento dei due ha evitato il peggio. Poi è arrivata l'ambulanza che ha trasportato l'uomo in ospedale. Non sarebbe buona notizia in pericolo di vita. È grave invece uno scontro frontale che è avvenuto questa mattina a Casa Bianca di Fermo. Due auto si sono scontrate appunto in un frontale ed è stato richiesto l'intervento di Icaro che ha trasportato una persona ferita in modo grave all'ospedale regionale di Torrette. Tutti gli aggiornamenti ovviamente poi sempre sul nostro sito. Ed ora cambiamo argomento, torniamo a parlare di turismo e di escursioni che sono un diritto di tutti e anche delle persone con disabilità. E allora sono in arrivo per i parchi della regione Marche contributi per realizzare percorsi escursionistici aperti anche a coloro che hanno difficoltà motorie o di altro tipo. Sentiamo. Percorsi escursionistici accessibili a tutti è la finalità della legge regionale 3720 che favorisce la fruizione dei parchi e delle aree protette ai disabili motori. Su proposta dell'assessore all'ambiente Stefano Guzzi la Giunta ha approvato i criteri di riparto e le modalità di assegnazione dei contributi 2023 per favorire il godimento della natura senza frontiere. I gestori dei parchi e delle riserve naturali avranno a disposizione 200.000 euro per realizzare dei percorsi dedicati e per acquistare appositi ausili. Per accedere ai contributi i gestori dovranno compilare delle schede progetto. Se i fabbisogni risulteranno superiori allo stanziamento i contributi verranno determinati in proporzione ai costi dei progetti ammessi. I beneficiari in questo caso dovranno garantire la copertura completa della spesa. È un'iniziativa che sto portando avanti per il quarto anno consecutivo non era mai stato fatto in passato abbiamo già deliberato e approvato 200.000 euro nell'anno 2020 nell'anno 2021 e nell'anno 2022 e ci apprezziamo quindi a fornire ai parchi della Regione Marche ulteriori 200.000 euro anche questo anno con questa appunto recente approvazione che metteremo a disposizione dei parchi della Regione Marche per far sì che ci possano essere sentire accessibili anche chi è che ha difficoltà motori anche chi dovesse essere su una carrozzina o in qualche modo diciamo così agevolato nel percorso di visita a quelle che sono le bellezze ambientali naturali dei nostri parchi. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Due anni fa, il 15 agosto 2021, i talebani riprendevano il controllo dell'Afghanistan. Oggi due giovani fuggiti proprio dall'Afghanistan ad Ancona ci raccontano cosa significa vivere sotto il regime talebano e soprattutto lanciano un appello ai governanti dei paesi occidentali in particolare dei paesi europei non lasciateci soli. Sentiamo. Oggi, 15 agosto, ricordiamo il giorno in cui il mio paese è stato lasciato nelle mani dei talebani permettendogli di fare qualsiasi ingiustizia e aumentare enormemente le deseguaglianze. 15 agosto 2021 15 agosto 2023 Da due anni l'Afghanistan è tornato sotto il dominio dei talebani da quando le forze armate della Nato abbandonavano Kabul lasciando gli afghani al loro destino un destino nel quale le donne sono tornate a vivere nell'invisibilità nascoste dietro il velo nero di un burka non possono fare nulla, neppure uscire di casa senza un accompagnatore maschile come racconta la giovanissima Sima arrivata ad Ancona un anno e mezzo fa grazie a un corridoio umanitario con l'associazione Ahmad Come ogni ragazza afghana vedo il 15 agosto la data più buia di tutta la mia vita il giorno in cui sono allontanata dalla società e il mio nome è impedigionato in un burka Sono due anni che le donne non hanno più la loro identità non possono fare niente, né studiare né lavorare intrappolate nelle case senza alcun diritto Se tragica è la situazione delle donne altrettanto lo è quella delle persone appartenenti alla minoranza a Zara Nell'Afghanistan dei talebani Pashtun essere a Zara come Sima o come Khalik fuggito anni fa quando era ancora un bambino rappresenta oggi una condanna a morte ma nessuno in realtà è al sicuro in Afghanistan per questo raccontano Khalik e Sima molti scelgono di fuggire La perdita dei diritti civili garantiti dalla democrazia ha colpito tutto il popolo afghano per questo si fugge dall'Afghanistan A due anni da quella che può essere definita una resa dei governi occidentali ai talebani Sima e Khalik oggi al sicuro chiedono ai governanti del mondo occidentale risposte e aiuto per i loro connazionali che rischiano ogni giorno la vita Voi avete sulla coscienza i visti negati i corpi che in fondo del mare o tra le sabbie del deserto voi avete sulla coscienza Avete dimenticato presto le promesse che ci avevate fatto Noi non siamo forse esseri umani come voi Noi non abbiamo diritto di un rifugio di sicuro Chiedo al mondo di ascoltarci perché anche gli afghani sono umanità e hanno il diritto di vivere Ed ora cambiamo argomento Torna il terremoto nella nostra regione Tre scosse si sono verificate in mare questa mattina tra Ancona e Pesaro La più forte di magnitudo 3.2 avvertita anche dalla popolazione si è verificata alle 9.56 a una profondità di circa 10 km Prima di questa si erano registrate altre due scosse di minore entità 2.6 alle 8.11 poi 2.1 alle 9.23 non sono registrati danni di alcun tipo fortunatamente né tanto meno feriti Ed ora cambiamo argomento 30 scatti in bianco e nero realizzati nel 1990 dal fotoreporter Alessandro Miola all'epoca appena sedicenne raccontano la vita e la quotidianità oggi dimenticata all'interno del manicomio di fermo in mostra a Magliano di Tennaffino al 10 settembre una mostra da visitare per la sua doppia valenza la scoperta dei primi scatti di un affermato fotoreporter e poi la testimonianza di volti e storie troppo spesso passati sotto silenzio vediamo una mostra per riflettere e ricordare via Zeppilli è l'indirizzo dell'ex manicomio di fermo le foto di Alessandro Miola risalgono al 1990 quando lui sedicenne si approcciava alla fotografia ma più che altro giocavo a fare il reporter quindi era la mia passione la fotografia è diventato anche un lavoro la mia vita insomma foto che sono diventate una testimonianza preziosa da non dico un gioco ma comunque una una sperimentazione alla fine la fotografia è diventata un documento storico sono le rare immagini del manicomio ancora aperto la mostra è aperta fino al 10 settembre con ingresso libero nelle rinnovate sale del torrione medievale di Maiano di Tenna la prima volta dopo 27 anni feci la prima esposizione e i primi che vennero a ringraziarmi furono appunto i parenti dei ricoverati dei pazienti e le associazioni dei malati di mente hanno detto meno male se ne parla questa mostra ci presenta i volti degli esclusi purtroppo perché a quell'epoca questi erano dei luoghi dove in pratica si cercava più di salvaguardare le persone all'esterno piuttosto loro che erano all'interno di queste strutture questa vuole essere appunto una mostra un'iniziativa culturale in un periodo questo di agosto dove nelle Marche ci sono un'infinità di sagre feste concerti musica balli danze e quant'altro noi abbiamo puntato come comune di Maiano di Tenna a qualcosa di un po' più culturale e che possa appunto far pensare e far meditare e restiamo nel fermano ma ci spostiamo a Montottone un premio per il maestro Rossano Corradetti nella sua Montottone assegnato dopo il riconoscimento già ottenuto come marchigiano dell'anno e il maestro ringrazia organizzando corsi per avvicinare i più giovani e non solo alla musica dopo essere stato premiato nell'aula del senato dal presidente della repubblica Sergio Mattarella come marchigiano dell'anno il musicista Rossano Corradetti oggi consulente musicale in Rai è tornato lì dove la sua strepitosa carriera ebbe inizio nel suo paese natale a Montottone nel Fermano erano gli anni 60 e un giovanissimo Corradetti intraprendeva i suoi primi passi nel mondo della musica grazie alla banda di Montottone la stessa banda che oggi insieme all'amministrazione comunale gli ha consegnato una targa e un premio per i suoi meriti professionali è stata una così una sorpresa che mi ha fatto molto piacere ho vissuto a Montottone e mi sono formato da piccolo a Montottone e ho suonato nella banda e allora per me è stato fondamentale suonare uno strumento che poi mi ha aiutato ad inserirmi nella musica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma l'amore per la musica ha permeato l'intera vita del maestro Corradetti che oggi nel suo paese natale è impegnato a trasmettere questa passione insegnando gli strumenti per capire e coltivare la musica soprattutto ai più giovani la musica va ascoltata non solo passivamente così dice oh com'è bello questo brano musicale ma anche poter avere un senso critico musicale cioè collegare le note collegare l'armonia collegare le melodie saper riconoscere le note insomma bisogna abituare anche all'ascolto anche i ragazzi fin da piccolo infatti io farò una guida all'ascolto della musica sinfonica verranno dei ragazzi delle elementari delle scuole medie e questo era il nostro ultimo servizio vi ricordiamo che potete trovare tutti i nostri servizi e tante notizie sempre aggiornate sul nostro sito www.etvmarche.it oltre che ovviamente sulla nostra pagina facebook e sull'app di e tv come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon ferragosto e una buona serata in compagnia dei nostri programmi vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti.